Il procuratore dovevo chiamare, cazzo! Sono De Falco da Livorno, comandante! Buonasera, comandante! Io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante! Comandante Schettino, comandante Schettino? Sì, ascolta il Schettino! Adesso lei va con la sua scoppa! Sotto la brua della nave, lato dritto, c'è una piscagina! Lei sale su quella piscagina e va a bordo della nave! E mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono! È chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino! Parli a voce alta! Comandante, parli a voce più alta! Metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta! È chiaro? Allora, allora, in questo momento, la nave è inclinata! Ho capito! C'è gente che sta scendendo dalla piscagina di brua! Lei quella piscagina la percorre senza il verso! Sale sulla nave! E mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo! È chiaro? Mi dice se ci sono bambini, donne o persone che sono giusti di assistenza! E mi rendisce il numero di ciascuna di queste categorie! È chiaro? Guardi che tiro che lì si è salvato forse dal mare! Ma io la porto veramente molto male! Faccio passare l'anima di guai! Faccio passare l'anima di guai!